Sono le sfide che sono contenute all'interno del PNRR che è il progetto sul quale ci basiamo per milionare il servizio sanitario nazionale per renderlo più moderno. La medicina territoriale che è quella che nel nostro paese è sempre stata un po' il talone di Achille si è visto soprattutto durante la tragica recente pandemia. E poi la digitalizzazione perché vuol dire ammodernamento, vuol dire superare le diseguaglianze nell'offerta che ci sono ancora oggi di sanità pubblica tra i vari territori, tra nord e sud, tra le grandi città e i piccoli centri. Sono due capitoli molto importanti nei quali un ruolo cruciale di attuatore lo ha proprio Agenas, ma io sono sicuro che con la collaborazione di Agenas, con la collaborazione delle regioni riusciremo a raggiungere gli obiettivi del PNRR e a modernare e rendere più omogenea l'offerta sanitaria nel nostro paese.